Luca, tu sei entrato nel secondo tempo, quindi in un momento in cui la partita chiaramente un po' il ritmo l'ha visto calare anche per via dei carichi messi sulle gambe, comunque la seconda amichevole vostra. Una tua impressione, ti chiedo, della partita del primo tempo più che altro e poi anche di una visione d'insieme che poi cercheremo di analizzare anche un po' dopo? Allora, diciamo che è una squadra sperimentale in quanto abbiamo cambiato comunque anche modulo, interpreti del gioco, quindi anche il mister sta valutando alcune opzioni per poter poi trovare la quadra giusta, quindi siamo in lavorazione, va bene la sperimentazione, è importante l'impegno e qualcosa di buono comunque malgrado il risultato secondo me si è visto. Siamo sulla strada buona perlomeno a livello di allenamento, di gruppo e questo è quello che conta, piano piano arriveremo appunto a una quadra migliore specialmente in campo ovviamente. Si è visto qualcosa di buono specialmente sulla corsia di destra nel primo tempo con il dialogo fra Di Pasquale e Perez, possono essere secondo te loro due una chiave di grande interpretazione per le partite di un campionato comunque di una categoria superiore rispetto alla scorsa stagione? Diciamo che sì, anche io ho notato questa cosa nel primo tempo, era una delle cose a cui mi riferivo, dei lati positivi, ho visto sulla fascia destra abbiamo bucato diverse volte, bravo Iumas a mettere delle palle importanti in mezzo al campo, bene anche Perez, anche loro daranno il loro contributo per noi, per la squadra, le ho visti sì, effettivamente le ho visti diciamo benino rispetto a magari a tanti altri che ancora devono entrare un po' in forma, però sì, è la tua analisi corretta diciamo. Quale pensi invece possa essere il tuo contributo? In una stagione comunque molto dispendiosa, molto lunga, tu sei entrato nel secondo tempo ma comunque la legna in campo la metti sempre? Allora diciamo il mio percorso quest'anno è iniziato bene, ho meno problemi rispetto all'anno scorso, ho iniziato come gli altri compagni la preparazione, sono molto determinato per poter dare un contributo alla squadra, quel che sia 20 minuti, un minuto, 10, quando entro provo a fare del mio, a mettere l'esperienza che ho, perché insomma ne ho abbastanza e niente, spero vivamente di poter dare il mio in questo campionato. Insomma, sono molto fiducioso in questo. Che girone ti aspetti invece, che campionato ti aspetti, specialmente anche dal lato difensivo, perché forse sono state lì le maggiori lacune viste oggi? Ti ripeto, essendo una fase di sperimentazione e la difesa vista oggi probabilmente non sarà quella di sabato prossimo in amichevole e forse non sarà neanche la stessa di inizio campionato. Quindi attraverso gli allenamenti, dei difensori buoni ne abbiamo, sarà poi il mister a valutare chi meriterà insomma di scendere in campo. Però gli elementi per fare una buona difesa ce li abbiamo, è quello che conta. Grazie. Prego.